In Veneto il West Nile è un'emergenza sanitaria. Negli ultimi mesi sono decine le persone che hanno contratto il virus portato dalla zanzara infetta. Ogni anno ci sono stati dei casi, ma mai come nel 2022. La Regione Veneto, per far fronte all'ennesima emergenza, ha varato un piano straordinario per contrastare la diffusione del virus da West Nile nel territorio. Verranno realizzate disinfestazioni straordinarie nelle zone maggiormente colpite. Attualmente il piano prevedeva l'intervento solo nelle vie con la rilevazione di focolai. Purtroppo la situazione si è allargata e questo non basta più. Dunque bisogna intervenire in maniera massiccia. Sarà stanziato un milione di euro e gli interventi saranno eseguiti tutti nei prossimi dieci giorni.